gentili delle spettatori tifosi di tutto il mondo tifosi vicini tifosi lontani ma soprattutto tifosi napoletani bentornati bentornati che dire sono quattro per i nostri amici del Cagliari a casa 4 a 0 grande Napoli grande Napoli grande Napoli veramente soddisfatto soddisfatto della prestazione degli azzurri Napoli che ha espresso un buon calcio e era stato completamente padroneggiato il campo è stato nettamente superiore sotto tutti i punti di vista certo ci sono stati alcune parti della gara dove sembrava che il Cagliari potesse in un certo momento riuscire a pareggiare però poi alla fin fine grazie a Meret che ha realizzato una gran bella partita non è stato così e il Napoli è riuscito poi a trovare il secondo gol con Kvara gara che è cominciata alle 18 Napoli che è sceso in campo con Meret fra i pali buongiorno Rachmani Spinazzola di Lorenzo il centrocampo formato da Zambuanghisselo Botka e il tridente d'attacco formato Kvara Lukaku e Politano Napoli che subito comunque ha fatto vedere la sua imponendo il suo gioco e appunto essere padrone del campo fino al 22esimo quando poi di Lorenzo comunque ha sbloccato la gara e ha portato il Napoli in vantaggio con un tiro deviato da parte di Vina e difensore che ha dato molto 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 fastidio a Lukaku la palla è entrata e il Napoli si è portato subito in vantaggio poi diciamo che nella parte della gara ci sono stati diciamo episodi sugli spalti poco poco gradevoli da parte delle due tifoserie sia curva A che la curva del Cagliari che sono episodi che onestamente non è bello vedere perché comunque Napoli e Cagliari la Sardegna è una mi so bellissima comunque Napoli anche una città bellissima come non potremmo dire la nostra città però purtroppo all'interno delle tifoserie a volte capitano episodi che non sono del tutto gradevoli e anche perché comunque certi episodi in un certo senso fanno male al calcio al calcio italiano vedere certe cose all'estero di certo non portiamo una bella immagine però purtroppo fortunatamente poi gli animi si sono calmati il gioco è ripreso e la partita è continuata anche perché poi comunque la penna l'arbitro la penna ha sospeso la gara per un bel tot di minuti di fatto sa che poi sono stati dati un bel po' di minuti di recupero alla fine del primo tempo però il Napoli comunque ha concluso in vantaggio difendendo il risultato di 1-0 grazie al gol del capitano nel secondo tempo il Cagliari ha cominciato molto 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 bene ci ha messo in grossa difficoltà Luperto ha sfiorato il gol del Pariggio dove Meret è stato bravissimo poi Lumbo ha tirato la palla fuori ma la più di otto occasione di sicuramente le più di otto occasioni il Cagliari l'ha avuta sia nel primo tempo che nel secondo quei tre pali in particolar modo quello di Marin secondo me il più clamoroso dove Meret ci ha messo la manina e l'ha mandata sulla traversa fortunatamente impedendo al Cagliari di pareggiare perché sappiamo comunque che con il Cagliari sono sempre state partite un po' ostiche per il Napoli quindi fortunatamente però Meret ci ha pensato lui a non far pareggiare il Cagliari a mantenere il Napoli comunque e mantenere comunque bene il Napoli alla fin fine fino poi al 62esimo che il Napoli in contropiede con un gran passaggio di Lukaku per Kvara Kvara ha infilato con la punta del piede destro nell'angolino sinistro scuffette per il gol del 2 a 0 che ha messo poi lì a quel punto completamente Kv il Cagliari il Cagliari poi si è completamente suicidato ha sbagliato con scuffette poi il Napoli ha realizzato anche il terzo gol il quarto nel finale il terzo da parte di Lukaku il quarto da parte di Alessandro Buongiorno che ha realizzato il suo primo gol con la maglia del Napoli e Lukaku che per la terza volta di seguito in Italia sia quando era all'Inter che alla Roma e adesso al Napoli ha realizzato il gol a Cagliari in casa del Cagliari e quindi si identifica un po' la bestia nera per i Sardi questo è poco ma sicuro Lukaku però che nonostante comunque poi una prestazione un po' così nel primo tempo dove si vedeva che comunque non riusciva tanto però alla fine è riuscito comunque a trovare il gol e a fare un assist e siamo già alla seconda partita dove Lukaku gioca la prima poi proprio da titolare non da subentrato con la maglia azzurra quindi comunque vedete un po' comunque come è cambiato l'attacco del Napoli con la presenza di Lukaku che è comunque una presenza importante soprattutto molto fisica in attacco per il Napoli poi come al solito l'assist per il gol finale per la ciliegina sulla torta ci pensa sempre lui sempre Eneres che per la terza volta di fila dopo Bologna e Parma anche questa volta Cagliari realizza il cross perfetto per il quarto gol da parte di Alessandro Buongiorno Eneres è sempre lui a mettere un po' la ciliegina sulla torta gli esprimiamo massima solidarietà per l'episodio accaduto dell'orologio altro episodio bruttissimo e gravissimo che non doveva succedere ovviamente quando succede a Napoli tutti i giornali ne parlano se succede a Udine o altre parti non viene fatta così tanta pubblicità però vabbè qui abbiamo ovviamente le solide discriminazioni territoriali che io a distanza di tanti anni non capirò mai però purtroppo è così però questi sono episodi che comunque sorvoliamo e pensiamo a goderci adesso il momentaneo primato di cui Napoli mantiene visto il parigio clamoroso poi ieri sera a Monza da parte del Vinter da tutti da tutti inaspettato come del resto il parigio della Roma-Genova il parigio della Juventus-Aembo in tutti i risultati molto rogamboleschi ritornando poi all'episodio di Cagliari in particolar modo mi ha colpito molto il posto da parte della moglie di Gianluca Gaetano che ha riportato le parole della bambina di Gianluca Gaetano la figlia più piccola che comunque ha detto mamma andiamo via insomma fatto sta che quei fumogeni e quelle tensioni hanno anche un po' abbassato diciamo quella sorta di possesso e una sorta da parte di controllo del gioco da parte del Napoli nel primo tempo fatto situazione che è stata anche sottolineata da Antonio Conte nel post partita con questi fumogeni in campo ci hanno un po' spaventati e abbiamo perso un po' quella padronanza del gioco questi sono ripeto episodi che non devono accadere episodi gravissimi ma a Cagliari purtroppo è così da un po' di anni a questa parte c'è questa storica rivalità fra Cagliari e Napoli ancora una volta a Cagliari siamo stati insultati e offesi per essere napoletani però questi episodi di discriminazione territoriale determinati personaggi non dovrebbero più entrare allo stadio dovrebbero avere il DASPO a vita questo non solo il Cagliari ovviamente ma in tutte le tifoserie in Italia questo è poco ma sicuro chi commette discriminazioni razziali e territoriali perché il razzismo è un'altra cosa e deve essere al di fuori del calcio questo non è calcio di cui quindi esprimo la massima solidarietà ora il Napoli però con questo 4-0 e questo primato in classifica non deve montarsi la testa noi tifosi soprattutto non dobbiamo montarci la testa e dobbiamo guardare dritti alla prossima partita quella contro la Juventus allo Stadium che ora già vedo molto entusiasmo in città fra tifosi, il campionato non illudiamoci di sicuramente il Napoli con questa squadra può sognare in grande fra le prime quattro questo è poco di sicuro ma al di là del clamoroso pareggio la favorita per lo Scudetto rimane senza ombra di dubbi l'Inter e il Napoli deve andare a mani alte a testa alta a Torino a giocare la sua gara che poi la gara possa concludersi in maniera positiva o negativa questo non ce ne deve importare noi dobbiamo fare la nostra partita dobbiamo onorare la maglia del Napoli voi soprattutto Lukaku e compagni devono onorare la maglia azzurra portare e trascinare il Napoli alla vittoria far rimanere soddisfatti soddisfatti i nostri tifosi e poi in futuro si vedrà quel che sarà siamo comunque alla quinta giornata con la prossima gara anche se dovesse uscire un risultato negativo non succede nulla perché siamo solamente all'inizio e quindi però il Napoli ci auguriamo possa fare il risultato ma se non dovesse essere così non dobbiamo allarmarci e cominciare subito a ricriticare Conte, Lukaku e tutti perché purtroppo la Juventus al di là della Juve che è in questo momento che è proprio un abisso in confronto alla Juve comunque di Tevez, Llorente proprio quella appunto di Antonio Conte è pur sempre la Juventus ed è una big quindi non possiamo lamentarci noi andremo lì faremo la nostra partita quel che sarà il risultato al di là di possibili magari decisioni arbitrali non a favore nostro però noi dovremo fare la nostra partita stare zitti e accettare il risultato che ne verrà io quindi vi auguro una buona serata vi auguro un buon fine settimana e soprattutto testa e concentrazione alla prossima partita tutti a sostenere il nostro a Napoli a Castelvolturno venerdì alla partenza del Pullman per Torino forza Napoli forza Napoli forza Napoli ciao via così